Ciao, mi chiamo Luca Fossi, sono il mental coach dell'Olimpia. Seguo le squadre giovanissimi allievi e aiuto gli allenatori a fare gruppo, a fare squadra, cercando di trovare modi migliori per affrontare le gare e soprattutto per motivare i ragazzi a fare bene, a fare bene in campo ma a fare bene anche a scuola che è la cosa più importante per noi perché il ragazzo che va bene a scuola e riesce a far combaciare gli impegni sportivi e scolastici è già un ragazzo che fa bene e ha tutte le caratteristiche per far bene e poi anche nella vita. Io sono laureato in scienze psicologiche e mi occupo di persone che hanno un deficit cognitivo e poi ho fatto un master in psicologia dello sport alla scuola cognitiva di Prato e niente, però più che altro sono un appassionato di questo sport. Il lavoro è una parte secondaria, più che altro mi piace il calcio, mi piace stare con i ragazzi e anzi ricevo più di quanto riesco a dare. Il prossimo anno è ancora via all'Olimpia? Senza un bel dubbio, senza un bel dubbio. Grazie a tutti!